ah dopo giro guarda questo questo è il giro dopo il pranzo sulla spaderona di alfizioso alfazioso alfizioso ragazzi caro marco che se gode il suo ritorno sai che la 159 con furore alla spaderona di alfazioso è un anno è un anno che non ritorno al volante di un'auto del genere è figa la spader è figa ma l'ha detto pure lui non si trovano neanche più le spader è più facile trovare una brela che trovare una spader la spader è veramente difficile puoi trovarla da trovare in condizioni buone la bandina vabbè dai ci vediamo la passeggiata prima del ponte a destra eh vado velox non ce ne sono no mi sono fidato di quello che ha detto prima il ragazzo che ha dato qui non 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 non